Una città ricca di disagi e segnata dai problemi è l'attaranto disegnata da Giampolo Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale, che accusa la maggioranza di centrosinistra guidata dal sindaco Rinaldo Melucci di incapacità amministrativa ed elenca le principali questioni da risolvere a suo parere e le difficoltà più urgenti vissute dalla cittadinanza settore per settore. Ci sembra strano che i consiglieri comunali di maggioranza addirittura lamentano che le forze di opposizione siano di ostacolo all'attività amministrativa. Vogliamo ricordare che il piano urbano della mobilità sostenibile è fermo ed andrebbe aggiornato, che il piano del commercio che era stato approntato da un anno non è stato ancora approvato, che il piano delle coste è ancora in alto mare e oggi si parla appunto della crisi dei miti agricoltori e anche il piano urbano del traffico non è stato portato in aggiornamento, in approvazione quando Taranto è una città che vive grosse problematiche dal punto di vista del traffico urbano, specie al borgo in concomitanza di eventi. E poi c'è tutta la questione dei servizi essenziali, come il degrado dovuto alla raccolta differenziata che è saltata, un piano della differenziata che è costato milioni a questa amministrazione e che vede addirittura la percentuale di differenziata regredire in questi mesi. È un fallimento totale a fronte di tasse al massimo chieste ai cittadini per servizi non adeguati.